Questo qua dove devo andare... Un macete boys! Un altro macete! Olè! Tieni pepe premuto per ne prendere. Zululla hyper clap! Non so se la sto tagliando. No, trova legna da ardere. Là forse. Questo qua mi sembra abbastanza secco. Possibile? Acqua pulita, Tieni pepe premuto per bere. Ma non mi sembra pulita soprattutto. Anch'io ho pensato al dual wielding. Ah, con R mi paro. Con G raccolgo le cose che ho nell'inventario. Bastone, prendi. Ok, ho trovato la legna. Scegli il punto in cui accendere il fuoco. Mi andrebbe bene anche qua. Qua? Taccuino. Fuoco piccolo di Diop. Ah, ma che bello! Dentro la tenda, dentro, dentro. Giocheresti mai The Forest? Eh, no, no. Quello no, perché è fin troppo mainstream. Questo invece non l'ho mai visto giocato. E non l'ho neanche mai visto. Quindi boh. Comunque, papparigo. Grazie per i 75 bits. Grazie mille. Vai. Ok. Fuoco piccolo. Tieni pre... Ah, aspettate un attimo. Che cosa sto facendo il fuoco? Il bastone è corto. Sì, tutto il porto è restato. No. Ho sbagliato. Non sono ancora sicura. Ma come faccio a mettere le cose? Ma mi sento in questo modo. Tesoro, aspetta che sono diventato completamente autistico. Come devo fare? Come si fa? È lì! Eh, ancora no, ancora no. Termina la costruzione. Quella lì mi vuole le borse. Termina la costruzione del fuoco. Devo trovare... Ecco, bastone è corto. Devo trovare i legnetti. Ma che figo! Cioè, magari... O è là, o è là, o è là! Donna... Su mia moglie. Via, via. Via tutti! Via tutti! Eh, non me lo fa tirare. No, no. Non me lo fa tirare. Ah, sì? Forse sì? Ma che brutto! Devo trovare i... Il legnetti, maggio. Zulul. Zulul macete. È così che si fa il fuoco. Eh, voi Zulul lo sapete. Io no. Ma non ho dei bastoncini. Due ne ho. E due maceti. Ah, vedi? Inserisci. Ce n'ho un altro! Ce n'ho un altro! Perché... Perché non... Perché non me lo fanno infilare? Bastone corto. Ah, così va perché è un bastone basta. Ah, perché è un bastone basta questo. Ok. Macete un altro. Prendilo, prendilo. Ok, probabilmente dobbiamo trovare i cosi. Animazioni Zulul. E le animazioni un pochetto Zulul lo sono. Si potrà rompere... Wow, abbiamo tagliato il banano. Che figo! Abbiamo preso la foglia di banano dopo che l'abbiamo tagliato. Che figata! Lascia, lascia, basta. Bastone corto. Credo che l'abbiamo tagliato. Sì! Ha funzionato! Sta cosa è carina! Il banano Zulul. Bastone corto, uno di quattro. Ok, manca ancora un pochetto. Manca ancora della roba. Buttiamo questo qui a terra. Questi topi ora li ammazzo tutti. Ma che... Ragazzi, è bella questa cosa però, eh. Ok, manca un bastone corto, credo. C'ho altro? No. Ho tre macetti però. Se metti il bastone normale... Se metti il bastone normale diventa uno corto. Eh, infatti, infatti, è quello che sto facendo. Acqua pulita. Dobbiamo trovare... Eccolo qua, bastone. Ok, portiamolo un secondo qua. Tranquilla, tu stai lì dentro a fare niente. Tranquilla. Parità di diritti, ma non di responsabilità. Ok. Ora ci vogliono i bastoni... Quelli veri. Ok, ora ci vogliono i bastoni veri. Non stai morendo per la sete? No, ancora no, ancora no. Cioè, credo che gli indicatori siano quello in basso a sinistra. È sotto la chat. Mi sembra pieno. Questa roba? Un nido di uccello. Prendi, prendi. Prendi, prendi, prendi. Ruba, tu... Tu ruba. Poi chi... Poi chi... Chissene. Parità. Omega. Ancora sei bastoni vuole. Bastone corto. Questo tizio vuole ancora... Ma non è che cade se picchia l'albero? Ah, ma che bello, posso... Questo gioco è molto più bello di quello che sembra. Bastone. 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 Quattro. Cinque. Ok, me ne manca uno. No, la tavola per il fuoco. Me ne manca uno. Deforestazione. Chiamate... Qualche... Organismo apposito. Bastone. Ma è bellissimo. Ragazzi, mi sto... Sto impazzendo. Oh, fuoco piccolo. Usa gli utensili per creare un tizone. Cosa vuole? Allora, sembra che tutto è pronto. Mia, puoi portarmi una luciata? Chi è Mia? Ah, è lei. Ehm, ricorda quando... Hunt, fai il campfire che ha iniziato. Vaffanculo! No, aspetta, hai tagliato il dialogo. Premi N per aprire il situazione e creazione. Bastone. Trappano a mano. Mi serve un bastone e un bastone corto. Uten Sili. Perché mi stavo già facendo scritto tipo altra roba. Mi servono un bastone e un bastone corto. Bastone ce l'ho? Ora mi serve un bastone corto. Non picchiare l'aliana. Bastone corto. Via, via, via. N. Hyperbra. Allora, C. Crea. Crea. What the fuck? No, no, no. Non ho sbagliato tutto. N. Ok. Trappano a mano. Un bastone e bastone corto. Macro e scrementi. Sanità mentale. Eh? Bastone e bastone corto. Li ho! Li ho! No, non picchiare il faro, please. What? Oh, 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 oh. Che bello, che bello. No, cosa è colto? Un mango? Ma cos'è? Sanità mentale, Pog. E Ho tutto C'ho un bastone Bastone corto Una noce Si è vagato O sono io che non capisco Crea Ah forse qua Ci metto il bastone E il bastone corto Trappano a mano Ma che bello ragazzi Ok è il primo survival Che io gioco In vita mia Quindi se sono gasato È per questo Apilo zaino Se meno espandi Seleziona usa Questo Espandi Usa Ok però non qua magari Aiuto No Pronto Via Vai via Oglia Cosa Cosa è successo Fuck Cosa ho fatto Eh What the fuck is happening Fuck Fuck Cacci basso Fuck Ma cosa sto facendo Se Se Trascina degli arbusti Dallo zaino E rilascio Sullo slot Dell Dell Dell'utensile Eh Fuck Fuck Non sto capendo Non sto capendo Mi serve Un arbusto Migliore Don't tell him Forse perché non è un arbusto Un bastone Il bastone Dov'è mandare bene Più corto del bastone Corto Che cosa c'è Non sa nulla Esorvi Ragazzi È difficile Però mi sto divertendo Perché Mi sto divertendo Perché Si vede che non ho mai giocato Un survival Quindi Sto provando Questa esperienza Per la prima volta Insieme a voi ragazzi First time Survival Allora Premi tab Usa Meno espandi Cioè Mi dice Prendi degli arbusti Dal Dal tuo zaino E Trascinali Sullo slot Dell Dell'utensile E però Mi toglie La pagina Dove c'è L'utensile Non ho capito Siccome si è Buggato Li stai buttando A terra Ok Ma perché Non me li mette Sopra l'oggetto Forse Forse Quell'altro È Buggato E basta Non è che No Trascina degli arbusti Dallo zaino Rilasciali Sullo slot Dell'utensile Per accendere il fuoco Vabbè Ce l'ho già qua Vedete che non ci sono slot Però Non posso Non posso È qui È qui lo slot Dov'è lui Eh non posso Ma un arbusto Non è un pezzo Di regno Ma che cazzo È un arbusto Non so Cosa sia un arbusto È questo Va bene la foglia Forse Forse la foglia È ok Cioè Un arbusto È un albero No Ok No no Stai lì Stai lì Così Credo sia messa apposta Per Non so Cosa è Una foglia Di un albero Una foglia Di un albero Face weird man Ragazzi Allora L'albero Mi dà Mi dà Il ramo Ok Non mi sto divertendo Cioè Non mi stavo divertendo Così tanto in live Da un po' Perché provo Una cosa per la prima volta E quindi mi diverto Ah forse No Non cambia niente Sto Sto Deforestando L'intera foresta Mi serve Aiuto Aiutami Qualcuno Qualcuno Ci dà Quelle latte Qualcuno Mi dà Una mano Non so Cosa sia Un arbusto Che cos'è Un arbusto Cos'è Quello Un arbusto È un albero Punto Però se io batto Un albero Invece Forse Forse Il bastone lungo Ma non ha senso Il bastone lungo Ma non ha senso No Via Che cazzo Sarà un moschetto Dei licheni Eh Sarà un moschetto Dei licheni Prova la liana Ma non sono arbusti Le liane Sono liane Non sono arbusti Prendo Ma Fa' fatto Me la conta come corda Dov'è Perché c'è sto casino qui Via Guarda che casino Guardate ma qui vi spiego Cos'è un arbusto Eh Allora Se dobbiamo vegetare Siamo a un albero Beh in punto Per Per vedere che c'è un topo Forse ce la faccio Bastardo È scappato Un albero in cui Non è presente Tutto il tronco I rami si separano Dal fusto centrale Molto vicino al terreno Cos'è È una copipasta Un arbusto E un vegetale Simele all'albero Una pianta Legnosa perenni I cui rami si separano Dov'è C'è molto Molto vicino al terreno Viene chiamato anche Fustice Dal cui è usato Come sennomeno Del termine Cespuio Spesso gli arbusti Anche quando sono piante adulte Si giocano più grandi La ghetta Quindi 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 a fine È un cespuio Quindi quello È un arbusto Ok Però mi sta dando Quindi alla fine Non ci spuglio Fils Weirman Quindi Però mi sta dando Eh Quindi Ora faccio Ma basta Che casino Che c'è In sto accampamento Madonna Quindi alla fine Che c'è 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 Sì, ok E ora? Sto facendo esattamente quello che mi dice lui Sto facendo esattamente, come era il volume? Vabbè, il volume io l'ho alzato un goccino, non so Sto facendo esattamente quello che mi dice lui Cara, ho vomitato sul falò Insomma, cioè, ho vomitato sul falò Sto mancando di rispetto a tutta madre natura Sto facendo esattamente Devi mettere le robe sui pallini bianchi fino a che non diventano verdi Best live degli ultimi tempi comunque Devi mettere le robe sui cosi fino a che non diventano verdi Messo Eh Ora è verde Mollo E non cambia niente Ci prendi, mangi e distruggi Vedete? È verde Vedete che è verde? Il cerchiolino è verde Secondo me c'è qualcosa che non mi ha spiegato Sì, lo so che è il tutorial Lo so Ma se non, se, se non spiega Ah Manca, manca il combustibile ragazzi Manca il combustibile Losing to wood Se la prende col gioco No, no, è che manca il combustibile Ok Ok, cosa possiamo usare come combustibile? Ok Eh Sonic è lost to this Fizz with me Eh Combustibile No Manca, manca un arbusto Il vomito Come Eccolo qua Ok Ok, ora dovremmo averne tre Ma perché tre? Perché tre? Sì, comunque in alto a destra C'è scritto Usa l'utensile E il combustibile Ah, è la legna che ha il combustibile Non credo sia il vomito Best Ragazzi, sicuramente Best alive di sempre Uno Due Perché mi dite che ne servono tre Che non è vero? Forse mi serve il terzo Quando comincio a dare il fuoco Ah, guarda Guarda che verde Che è sta roba? Forse Servono due Utensili Perché qua c'è un altro Coso bianco A meno che No A meno che Non servono due Utensili Forse sì Forse sì Forse sì Aspettate Bastone Bastone corto Ok, allora Posso già Posso già farne un altro Bear Grylls Della Della Lidl Allora Come si fa a creare C Crea Ok Ok, ora ne abbiamo due Ok Usa Ok, ora in quest'altro coso No Ne servivano due Ne servivano due Ne servivano due Zitti che ne servivano due Ok Ne servivano due Ecco, ecco cos'è che mancava È la cosa meno intuitiva del mondo Ho fallito Ho fallito? Ce l'ho fa Edz clap Edz Edz Vieni qui Cosa manca? Cosa manca? Perché non è? Perché non va? Eh? Eh? Devo farne un altro L'uomo Fra Devo Devo farne un altro A caso Perché non si è acceso? Si è buggato E devo fare un altro Perché non si colpi Perché sto colpendo Perché ho colpito Quello lì dietro È così Era più facile Le boschi Comunque Comunque mi sta prendendo Ok Adesso posso Posso fare Un sacco in più Qualcuno Chiami Greenpeace Allora Trappano a mano Se no cosa faccio? Niente No Eh? Perché? Ok Ora Ne facciamo un altro? No Non abbiamo spazio per un altro Forse sì Vediamo Crea Perché? Perché ne servono tre Allora Se lui si spegne Non due Quindi ne servono tre E però Rimane lì? È qui che flutto Vabbè Ok Ora Micia che difficile Allora Usa Usa Ok Ok Ora Al volo Ah no Ok Ora devo andare a fare l'altro Immagino Usa Ora Prendi questo Prendilo Mettilo qua Prendi l'altro Porca troia Impestata di merda Però Oddio Ok Me ne servono quanti? Allora Uno Due Tre Quattro Me ne servono Quindi Me ne servono Quattro Ma cosa Minchia Stai facendo Rie Allora Allora Volete che mi spieghi? È impazzito Allora Ragazzi Parliamoci chiaro Prendiamoci chiaro Ne servono almeno Almeno Minimo quattro Perché Uno lo mettete qui Uno lo mettete qui Poi Accendete questo E quello che usate Per accenderlo Si rompe E poi dovete correre E accendere quest'altro Quindi Ne servono quattro Io ne ho ancora due Non ne possono bastare due Ragazzi È impossibile In che modo Lo fate voi con due Comunque sono spiegati Molto male i comandi Allora Perché vedete Se io faccio così Accendo Ok Lui sta lì Non si capisce Cosa accade Io provo ad accendolo Su questo lato Faccio usa Vedete E me ne serve Sto capendo Altrimenti possiamo Già finire qui La live Pepega Si no vado Perché non lo sto Capendo proprio Cioè O me ne servono quattro Almeno Non è che cerco la Guida per finire la guida Parla giusto te Non ho capito Niente Allora E' colpa E' colpa vostra What the fuck Eccole eccole forse qua Su sta pietra No No Mi sembravano Il nido Io ce l'ho ancora Allora Usiamo il nido Allora Ok Avete Detto che si può usare Anche il nido Usiamo il nido Usiamo il nido Allora Ok E ora cosa vuole Ora Ora cosa vuole Metti I tizioni Da campo Ma io non ho Ma io l'ho mangiata Quella roba Ma io non l'ho mangiata Quella roba Ah se sentilo No No Ah lui ci buttava Tipo questo Comunque ti ringrazio Non mi divertivo Così da tempo Lui Coglione Prima devi dare fuoco Alla miccia E dopo devi usare La miccia Nel fallò Eh Allora Ma noi Non l'abbiamo mangiato Quello che bisogna Metterci Quando abbiamo Vomitato Non abbiamo mangiato L'ambra La moglie Che sente Quale problema Mentale Ti affligge La moglie Che sente Continuare A dire Fuck Shit Fuck Ah Amber Non a Amber Il tizzone Il signore di tizzone È diventato Dark Souls Ok Dobbiamo trovare Un tizzone Adesso Ragazzi Dobbiamo 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 Trovare Un tizzone Ma non va Se te pega Ok Il tizzone È È Il tizzone È un ceppo Proprio È un ceppo Di legno Bello Abbastanza Spesso Non il tizzone Però qua È tutto uguale Forse magari Un bel tronco Di questi Magari Un bel tronco Di questi No Il mio macete Non credo sia Abbastanza Forte Per quella Roba Lì Forse Devo andare Un po' A esplorare Gli anni Per accendere Un cazzo Di falò Sì Se me lo fanno Fare Con me Con Se me lo fanno Fare Con me Con metodi Bislacchi Allora Mettici le foglie Poi appena finito Schiaccia Quella cazzo Di esul Falò E accendi Non posso Perché mi Mi manca Il tizzone Credo Credo Che mi manchi Il tizzone Quindi ti mangi I ceppi No Non mangio Neanche I tizzoni Se è per questo Allora Va bene Qui Ah merda Non ho più Il nido Scusa Invece Se lo faccio Così Funziona Comunque No Dobbiamo trovare No Aspetta Dobbiamo Dobbiamo trovare Un qualcosa Per ora Accenderlo Perché non abbiamo Più il nido Non puoi usare La pigna Non è vero Mia moglie Non si fa domande Che ci sto mettendo Un po' Il bastone Non prende fuoco Dobbiamo trovare Un qualcosa Che prenda fuoco Non è che magari Questa legna Questa si chiama Tavola per il fuoco Più di più di così Forse devo rompere No ok Questa qua Non posso romperla No Il nido Si l'abbiamo mangiato No Non l'abbiamo mangiato Il nido L'abbiamo Dato fuoco Alla fuoco Dove cazzo Trovo L'erba Da far ardere Al buste Fizzone Is this The real shit Vedo Si Voi Omega lullate Sono con le lacrime Sto lì Ragazzi Mi serve Solamente Dell'erba Che posso andare a fuoco Il banano Che voi sappiate Va a fuoco Ma questo mi da solo foglio Mi serve L'erba secca Mi serve Non credo che la foglia di banana Non prenda fuoco Si smiley face Ma non è vero niente Eccolo Ok È l'ultima chance È l'ultima chance Credo Poi dobbiamo per forza Skippare il tutorial Frutto sconosciuto Prendi Mangialo Abbiamo una Intossicazione alimentare Ok Bene Quindi Abbiamo solo una chance Quindi appena si accende Io schiaccio E E Oh Mia Prendi Prima 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 Persa Prima 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 Eu C Gentorts hello Come Sacc risking Themist I Emaci No Il г Forve Il Don Tien vic��고 come hell i am well aware of that but still